Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto in quello che dovrebbe essere il biglietto da visita della città perché siamo infatti nelle adiacenze della stazione ferroviaria, per cui nel momento in cui si arriva a Taranto bisogna per forza percorrere queste strade per poi guadagnare l'accesso alle altre zone della città e quindi il ponte di Pietra, il ponte girevole e quant'altro. Già abbiamo l'area, il viale che costeggia la stazione e vedete le palme con delle foglie completamente secche e pendenti, cadenti, che chissà da quanti anni non vengono potate e non vengono appunto bonificate. Quindi già questo è il primo impatto negativo per chi arriva, ma purtroppo gli scempi non finiscono qui perché basta lasciare lo stradone alberato con le palme che ci imbattiamo in via Costantinopoli e prima ancora che io dica qualcosa, guardate, una bella immagine, una brutta immagine, una full immersion in questa zona già preannuncia quelle che saranno le mie parole. Qui siamo di fronte alla foresta urbana, dovremmo dire, marciapiedi che sono completamente invasi dalle erbacce e dai rifiuti, sottolineo completamente, sono completamente ostruiti. Qui ci sono dei capannoni e questi capannoni ovviamente in un'ottica di riqualificazione, di rilancio economico della città, potrebbero e dovrebbero essere impiegati per ospitare nuove attività commerciali. Ma ditemi di grazia, come si possono qui insediare, instaurare attività commerciali se si trovano in una situazione di sporcizia immane, inenarrabile. Guardate, noi abbiamo una stratificazione di erbaccia, di sporcizia che ha reso praticamente invisibili i marciapiedi. Cioè una persona che arriva qui pensa che i marciapiedi non esistano, che non ci siano mai stati, invece i marciapiedi sono sottostanti. Marciapiedi, quello che resta dei marciapiedi, perché parliamo, come vedete, anche qui per esempio, tutto il tratto, la pavimentazione è oramai andata persa, è rotta e quindi non c'è più nulla. Ma dico, quando anche qualcuno avesse il coraggio di voler intraprendere un'attività commerciale, in questo modo non potrebbe mai farlo. Ripeto, stiamo parlando non dell'estrema periferia, stiamo parlando del primo impatto con la città. E allora se noi vogliamo essere e dobbiamo essere una realtà turistica, possiamo tollerare una situazione del genere? Allora l'invito all'amministrazione comunale, all'assessore al verde, all'assessore ai lavori pubblici. Qui la zona va ristrutturata, va messa in sicurezza, va bonificata. Non è possibile che la città debba continuare ad avere schiaffi in faccia in questo modo. È il biglietto da visita. Noi diamo l'immagine purtroppo a causa di queste condizioni, a causa di questo stato di cose e diamo l'idea di una città del terzo mondo. Non so come definirla, ma è tanto difficile, signori amministratori, pulire, bonificare quest'aria? È così difficile tagliare l'erba? È così difficile fare uno stanziamento minimo per ripavimentare la zona? Ma così dobbiamo attrarre l'economia, ionica e non solo? Beh, io penso di aver detto tutto. Ora, come dire, mi affido al buon cuore, alla coscienza, se c'è, di chi ci amministra, perché in queste condizioni altro che marketing territoriale.